A Son Gavazzo c'è una nuova area per la gestione dei rifiuti, dove si trova e come è stata organizzata? Bene, abbiamo portato a termine un percorso iniziato nel 2023 che consisteva nello spostare la gestione dei nostri rifiuti che voglio ribadire e sottolineare non è una piazzola ecologica a tutti gli effetti, ma è solo un aiuto, un incentivo a raccogliere bene e meglio i nostri rifiuti differenziandoli come sappiamo. Quindi l'abbiamo spostata questa zona dalla chiesa, dal parcheggio antistante la chiesa parocchiale al nuovo parcheggio realizzato appunto nel 2023 adiacente al cimitero e in questo nuovo parcheggio trovano quindi spazio ad esempio i cassoni del verde e dell'ingombrante che effettuavano la raccolta normalmente nei periodi indicati dalle nostre indicazioni e trova anche spazio soprattutto la novità importante è questa ecoisola che vedete alle mie spalle che può contenere la raccolta 24 ore su 24 di plastica, di indifferenziato e di umido. Però questa ecoisola sarà a pannaggio dei non residenti che regolarmente in regola col pagamento Tari e Imo ovviamente quindi i cosiddetti villeggianti ma anche i proprietari delle cascine sparse nel territorio di Son Gavazzo che conferendo il loro rifiuto magari nel cassone di Falecchio oggi potranno invece avere questo spazio e questa strumentazione adatta, idonea per la raccolta del rifiuto che avranno prodotto. Ribadisco quindi i proprietari di cascine e i non residenti proprietari di seconda casa, i cosiddetti villeggianti. Con questo noi speriamo di sanare definitivamente il problema di queste persone che appunto non sapevano mai come poter lasciare il sacchettino dell'umido soprattutto di plastico di indifferenziato la domenica sera quando dovevano rientrare nelle loro abitazioni abituali. Tutto questo è un passo in avanti naturalmente per il servizio al cittadino ma diventa anche importante per la gestione corretta dei rifiuti che purtroppo dobbiamo registrare capita che vengono arbitrariamente depositati a bordo strada con la scusa ebbene non sapevo cosa fare. Come funziona l'ecoisola? Come è possibile far aprire gli sportelli? Quindi l'utente che ha la necessità ed è nelle facoltà per poter fruire di questo servizio deve recarsi negli uffici comunali, richiedere la tessera che gli verrà data al costo una tantum all'inizio e poi basta di 5 euro e con questa tessera magnetica potrà aprire gli sportelli che sono settati proprio per questo funzionamento. La tessera quindi può essere usata anche dai parenti, può essere usata oppure se fosse un bed and breakfast dai clienti del bed and breakfast. È molto semplice, adesso vi facciamo vedere come funziona basta avvicinare la tessera al lettore QR code e poi toccare e sfiorare lo sportello e lo sportello si apre automaticamente. Si deposita quello che bisogna depositare e il gioco è fatto.